Ciao a tutti, io sono Rosy e benvenuta... Oh ma dai, dovevo farla io la intro! Ma perché scusa, la voglio fare anche io? E no, invece la faccio io! Dai ragazze, fatela insieme! Va bene, io sono Giulie e io sono Rosy e oggi faremo un nuovissimo unboxing! Mostra cosa apriremo! Oggi apriremo la serie più ambita del momento, una LOL Surprise So Mini! Eccola qui! Le LOL che hanno le sorprese nelle acconciature. Sono stra curiosa di vederla. Iniziamo a scartare. E va bene, l'ho aperta massima. Oh, e se vi chiedete se nella serie di Giulie e Rosy non ho ancora inserito l'altro gatto, è perché sto aspettando il momento disto. Se non sapete di chi sto parlando, andate a vedere la unboxing, in cui scarto entrambi. Uh, le bolle verde acqua! Non è più come quella di Rosy, la bolle. Un peccato. Cioè, non so. Uh, questa mi piacerebbe tantissimo! Dovrebbero proprio migliorare l'apertura di queste roll. Però, vabbè. Temi nei commenti se voi avete questa serie. Ok, eccola aperta. Ok. E tutte le sorprese andiamo sulla checklist. Allora, eccola qui. Ci sono LOL di tutte le serie. Uh, questo è molto carino. No, beh, questa è la mia preferita in assoluto. Poi, lei mi piace. Mi piace. Sugar Queen, bellissima. Mi piace. No. Allora, questa è la mia preferita in assoluto. Bonbon, poi Curious QT, Ottantas BB, Sugar Queen e Fancy. Uh, io adoro Curious QT. È vestita davvero bene. Ok. A me invece piace Slag Baby. È un po' simile a me ed è l'ultra rara. Wow, io stravedo per Sugar Queen. Va bene. Dai, scartiamo le sorprese. Allora, comincerei dal biberon. Ecco questo. Allora, intanto tolgo la checklist. Così non mi spoilerò niente. Bianco e argentato. Non mi viene in mente. Voi scrivetemi nei commenti se l'avete già capito. Cioè, non so. Non penso sia l'ultra rara. Cos'è questo? Le scarpine, no! Forse è Bonbon! No, dai! Penso, perché mi sembra che lei avesse le scarpe gialle così. Gli occhiali, sì! Penso sia lei! Che bello! La mia preferita in assoluto! Sì, è lei! Così sono i suoi puciu! Yes, io gli unicometisti anche a voi. Era la vostra preferita. Wow! Guardate l'abito. È stupendo! Davvero bello! I fiocchi sono dipinti un po' male, però... Dai, è bello! E ora la LOL! Ed eccola qui! Wow! È stupenda! Adoro le sue calze azzurre e rosa! Pavolosa! Wow, wow, wow! Cosa ne pensate? Bellissima! No, per me è troppo colorata! Vediamo qui... Eh, se no riesco ad aprire quelle grandi figurati, quelle piccole! Ok, vediamo... Uh, un cupcake alla fragola! Stupendo! Vediamo l'altro... Questa è rosa! L'ho aperta finalmente! Sono davvero difficili da aprire! Oh, il suo orsetto! Stupendo! Penso sia un po' pazzo! Bene, adesso la vesto! Eccola qui! E qua c'è il sorsetto che, vabbè, non può tenere in mano! È davvero stupenda! Anche se i puccio, non so, sono un po' difficili da mettere! Cioè, trovo carina questa idea di averli messo delle sorprese nelle acconciature, però non lo so, trovo che non tengano tanto! Spero che terranno! Allora, cosa ne pensate? Io l'adoro, è stupenda! Peccato che sia in un'altra serie! Però davvero, mi piace moltissimo! Anche a me piace un sacco! Mi sa di una super simpatica! Per me non ha neanche un po' di stile! Non è affatto ricca! Beh, anche tu non lo sai più! Che cosa c'entra? Io amo comunque le cose dorate e splendenti! Lei... Fa schifo! Oh, ma dai, Jessica! Julie? Per me è uguale! Rosy? Io la trovo fantastica! Bene, allora diteci cosa ne pensate dei commenti, suggeriteci un nome, iscrivetevi al canale, lasciate like e ci vediamo al prossimo video! Ciao, stelline!